pronto geronimo powell ciao grazie mille scusa l'ora e grazie mille per ieri di aver portato nuovamente bitcoin 43 mila dollari grazie anche per aver portato spy qqq coi dividendi aggiustati nuovamente in all time i ci risentiamo per i futures comunque è stato un piacere lavorare con te ebbene sì questo è quello che è successo ragazzi abbiamo nuovamente i mercati in pompa in questi in queste ultime ore grazie alle parole di geron powell grazie all'ultimo fomc era uno dei catalizzatori più importanti vi ricordo quali erano i catalizzatori e i tagli dei tassi per il 2024 le tf e anche abbiamo l'alving come catalizzatori importanti e poi andremo a vedere altri catalizzatori durante il corso del video importanti per bitcoin l'anno prossimo ma non solo per tutti i mercati anche questi dei tagli dei tassi abbiamo visto loro recuperare come vi ho detto ora osserveremo anche i future su nasdaq da sempre fai fan di vedremo che i future sono molto vicini all'ultima infatti molti utilizzeranno quelli per basarsi sulla prossima resistenza dato che gli etf alcuni sono già e per tutti quelli che ragionavano con apocalisse insomma per ma bearish alla michael burry di turno ricordate che se siete per ma bearish vi perdete lasciate sul tavolo tanti soldi e ricordatevi anche che un mercato esteso non è una ragione per shortarlo ed è un dato di fatto cioè se siamo troppo estesi non significa che dovete shortare il mercato è una ragione per non comprare quello sì se un mercato è troppo esteso per non andare long ma non è una ragione per shortare non è una scusa per shortare dovete avere più conferme per shortare i mercati e a volte il bias di una persona non è sufficiente non è sufficiente io ho visto tante tanti investitori basarsi sul proprio bias dire ok siamo troppo estesi l'anno prossimo c'è la recessione la cina l'india e farsi tutti le supercazzo le mentali alla fine non arrivare a nessun tipo di conclusione logica e sì diciamo essere per ma bearish fa diventare fa figo nel senso che comunque tiri fuori un arsenale di parole tecniche di prospettive intelligenti smart acute ma il mercato non sempre ti dà ragione il mercato la maggior parte della volta ti dice sai cosa c'è tieniti le tue considerazioni io vado per la mia direzione perché perché i mercati sono così se fosse facile leggerli saremo tutti ricchi quindi questo il mio consiglio prima di essere super per ma bearish attendete sempre io ricordo tutti i commenti che ho letto nel mio canale quando faccio i video e quando dicevo ci potrebbe essere il taglio dei tassi nel 24 è un'opzione che stiamo considerando che considerano i mercati ma tu cosa dici ma non sai niente i mercati non verrà necessario nessun taglio ci sarà la recessione moriremo tutti insomma ora sta succedendo la stessa cosa con l'etf sono molti che dicono l'etf non verrà approvata e si sono messi questo bias copa verso right farà cadere bitcoin farà con l'etf sono messi questo bias quindi state attenti a questo tipo di bias perché sono delle pulci nell'orecchio che magari prendete andando in giro a leggere articoli strani di non so qualche giornalista è sempre per ma bearish oppure andate a vedere video strani ma dovete sempre stare attenti e sul pezzo e vedere quello che il mercato effettivamente ci offre bene fatto questa premessa iniziale boom andiamo a vedere un attimo che cosa succede sul grafico di bitcoin grafico di bitcoin che per il momento ha recuperato questo livello io penso che potremmo andare lateralizzando per un po' fino a che non ci sarà l'approvazione sull'etf poi con l'approvazione sull'etf potremmo vedere una salita una roba del genere mettiamola così no avevo fatto anche un tweet a riguardo potremmo adesso lateralizzare un po' e poi verso natale lateralizziamo e poi sull'approvazione dell'etf possiamo andare a colpire 48 mila dollari non è garantito non è sicuro potremmo farlo anche prima però comunque resta il fatto che il grafico di bitcoin rimane ancora relativamente sano mentre se andiamo a vedere appunto l'oro vedete anche lui sta tentando un recupero il nasdaq e le s&p stanno tentando l'ultima ai almeno come già vi ho detto gli aggiustati dividendi l'hanno già fatto i futures ancora no e quindi adesso se colpiscono il time i sarà importante anche per le criptovalute perché ci sarà poi la rotazione dei fondi quando esauriranno le cartucce sull'azionario potrebbero andare a colpire i ritardatari che non sono solo le criptovalute i ritardatari sono tutti quelli che ci sono qui come xbi xli e tutta questa rotazione dei fondi nei vari settori che comprende anche le criptovalute anche gli stock cripto stanno andando bene andiamo a vedere mara più 12 per cento microstrategy ha recuperato abbiamo coin che ha recuperato insomma anche gli stock e non stanno andando male total di fai ha recuperato total 2 quindi scluso bitcoin ha recuperato total 3 ha recuperato la bitcoin dominance al momento sta risalendo un pochettino perché ci sono un po di voci ancora sull'etf tra poco le andremo a vedere insomma dopo il discorso di paulets cripto ex chiamano così cripto twitter è tornato abbastanza gasato sul discorso dell'etf e andremo a vedere di che cosa si tratta nel dettaglio prima però ragazzi io vi ricordo sempre la nostra carta by bit che potete ordinare io ve la metto qui riceverete 10 euro di card bonus 5 euro se fate primo acquisto 10 euro se depositi se depositate e se depositate 100 dollari altri 25 euro 45 euro in regalo quindi vi lascio il video in descrizione andate a vedere e se volete farlo fatelo andiamo avanti perché adesso non mi ricordo più che cosa devo far vedere a il report di oggi questo è quello di ieri da vedere quello di oggi un secondo solo ok perfetto andiamo a vedere quello di oggi che cosa ha detto paul e che cosa è successo perché bitcoin come vedete rimbalzato sopra i 43 mila dollari per la prima volta lunedì trenando con sé il mercato delle cripto la fed ha segnato tagli dei tassi di interesse per il prossimo anno ha segnalato i tagli dei tassi di interesse certo perché io le form si li non l'ho seguito perché ero fuori comunque mi sono poi andato a rileggere un po la situazione mentre i funzionari della banca centrale degli stati uniti hanno lasciato il tasso a 5 25 5 50 concludendo la riunione di dicembre del appunto dell'fomc hanno previsto che il taglio scenderebbe al 4.6 entro la fine del 2024 indicando circa tre tagli di 25 punti base quindi tutto sommato i guadagni che abbiamo visto comunque sono arrivati quando la fed ha mantenuto i tassi stabiliti anzitutto 5 25 5 50 che era una mossa appiamente telegrafata e attesa ma abbiamo il dot plot della banca centrale che indica tre tagli di tassi nel 2024 questo che realmente ha fatto pompare i mercati quindi la le proiezioni economiche la sintesi proiezione economica ha mostrato che le form si si aspetta 4 75 entro la fine del 2024 al di sotto delle proiezioni del 55 che c'erano sui rapporti dell'inflazione che erano arrivati comunque abbastanza freddi più freddi del previsto e quindi questo ha portato una salita dei mercati. I rendimenti dei titoli e l'indice del dollaro americano sono scesi infatti se andiamo a vedere il dollaro qui lo vediamo che è dove diavolo è il dollaro di XY è sceso anche lui è tornato nuovamente giù e così se andiamo a vedere tutti gli yields vediamo il 10 anni 30 anni 5 anni sono scesi di brutto questo è un'indicazione importante infatti probabilmente tlt oggi salirà e così via quindi indicazioni importanti anche queste le cripto di grandi dimensioni come avalanche cardano injective hanno registrato guadagni anche le azioni legate alle cripto sono salite l'exchange coinbase microstrategy appunto e tutto il resto sono saliti mara riot clean spark sono tutti saliti anche qua vediamo la hit map e vediamo che solamente lio atom xmr imx apt e cake sono giù ma sono quelli che stavano salendo praticamente il giorno prima facciamo vedere loser winner qua vediamo sul terminale vediamo appunto che abbiamo 93.50 per cento di winner 6.50 di loser con in classifica bonk bim ing e centi orca olas e che ti e così via quindi ada sono le cripto valute sono in ripresa comunque generalmente storicamente il mantenimento della riduzione dei tassi interesse tende a iniettare ottimismo tra gli investitori poiché implica un maggior reddito disponibile e potenzialmente una maggiore maggiore investimento in diverse classi di asset questo effetto non si limite ai mercati tradizionali ma si stende agli asset innovativi quali le cripto valute ora andiamo a vedere le tf le nuove novità perché mentre la sec insiste sui bitcoin etf basati sul modello di creazione e riscatto in cash in quindi in contanti è quello che vuole quindi nonostante le proposte alternative black rock ha dovuto adattarsi qui black rock ha modificato la struttura di bitcoin autorizzando i partecipanti al al cash in questo è quello che volevo questo richiede depositi in contanti per acquistare bitcoin mentre il modello in natura utilizza il paniere di titoli la stack preferisce il modello in cash in per maggiore flessibilità nonostante l'efficienza del modello in natura etf di bitcoin spot guadagnano interesse su ex dopo il discorso di powell è tornato un po il fomo in vesco adotte il modello di creazione in cash in anche lui indicando un possibile consenso sul protocollo di esi sul protocollo sul sull'approccio bitwise bitcoin etf appare sul sito della dtc segnalando un'avanzata verso il lancio anche bitwise lo abbiamo qui quindi si è unito anche lui al gruppo nel mentre però la sec ha posticipato per quanto riguarda l'etf spot di in vesco e galaxy al 6 febbraio 2024 che era abbastanza previsto 24 se non ce l'anno cruciale anche per ethereum questa che ha posticipato quella di ethereum con previsioni per il raddoppio dei ricavi fino a 5 miliardi di dollari questo momento è dovuto all'uso esteso delle sue applicazioni il costo medio di transazione dovrebbe scendere a 0.01 con l'aggiornamento ip 48 44 rendendo ethereum più accessibile e appunto il prezzo è previsto in aumento nel mentre jamie diamond che criticava ha triplicato il suo team interno per l'approvazione dell'etf bitcoin spot per quanto riguarda le cripto quindi si pensa ora che stia scioltando il mercato cripto per quello che ne parlava male come come aveva fatto con l'oro tempo fa e quindi questo è quello che si specula nel frattempo bitcoin raggiunge nuovi massimi in turchia egitto nigeria argentina dove l'inflazione molto alta quindi è molto facile raggiungere nuovi massimi bonk è salito dopo listing su coinbase come abbiamo visto bonk continua andare molto bene meme token di solana il cane token qui abbiamo selezionato alcuni progetti da osservare c'è dpn che praticamente sono scelti da dpn questi qua tra i progetti abbiamo hive mapper che è una mappa decentralizzata costruita dagli utenti utilizzando registrazioni di loro viaggi in auto mezzo network render network poi c'è ilium se fir protocol tala tala ne avevamo già parlato multi beat insomma andatevele a vedere qui se siete su mind e certo teo poi faremo anche magari un articolo completo un report completo su questi e vi arriverà con la newsletter quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi è gratis e quindi avete anche 12 video corso gratis che trovate su social quindi trovate tutto l'oro raggiunge 2030 l'oncio dopo che la fed ha indicato tra i tagli dei tassi il dollaro scende come abbiamo visto i mercati azioni asiatici registrano anche loro una risalita tranne il giappone e i future stazioni statunitense hanno registrato guadagni anche loro come già vi ho spiegato sono praticamente in oltre mai quasi quindi questo è quello che che stiamo vedendo al momento vi l'ho detto ragazzi se vi interessa ma in the chart.io è assolutamente gratuito e lo trovate qui qui trovate tutto quello che vi serve 24 ore su 24 7 giorni su 7 e sulla sezione social qui ci sono i video corsi così come il mio mio libro l'ho trovata 60 per cento di sconto su amazon e lo state acquistando in tanti però non state facendo recensioni vi chiedo una recensione così da capire se vi è piaciuto o non vi è piaciuto così da capire se scrivere secondo oppure no in futuro quindi grazie comunque per averlo acquistato e grazie per averlo letto avete dedicato del tempo bene 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 quindi il nostro bitcoin adesso dobbiamo continuare a osservare perché adesso arriva anche le vacanze natale quindi probabilmente ci saranno momenti un po particolari nel mercato comunque noi continuiamo a osservarlo anche perché alla fine se ci pensate 48 mila dollari non sono un target così elevato da raggiungere però non è neanche così semplice raggiungerli tutti in un corpo solo ci vuole sempre un certo tipo di movimento noi osserviamo la resistenza qui e soprattutto osserviamo quella che sarà la reazione post etf perché se ci sarà un selden news lo capiremo solo dopo e capiremo come muoverci di conseguenza se non avete visto il video di ieri andatevi a vederlo così vi spiego anche qual è il mio game plan ad ogni modo questo è tutto per l'appuntamento di oggi spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto iscrivetevi al canale commentate attivate la campanella e ci vediamo alla prossima ciao a tutti